ciao a tutti sono simone di simone and simone e questo è carmal space per agron quindi finalmente sono ritornato su questo gioco e come intuite da il nome del nuovo salvataggio è perché ho visto un film che si chiama dune e quindi sono stato ispirato e ho detto ma perché non andiamo su duna anche noi a destare la spezia siccome non mi piacciono le cose semplici siccome questo gioco è molto difficile ogni volta inizio da zero così vi beccate tutta la spiegazione di come fare le cose in carbal quindi iniziamo ho scelto modalità carrier ho cambiato la bandiera mi sono messo un po più di difficoltà ma poco conta iniziamo iniziamo quest'altro ci farò al solito tutorial che noi eviteremo come la peste grazie io so già cosa devo fare dobbiamo fare soldi scienza queste cose qua soldi scienza e reputazione per fare questo dobbiamo fare delle missioni di successo andando avanti potremmo anche prendere queste missioni qua questo ad esempio sono molto facili ne prendiamo senza problemi ci chiede di fare un esperimento scientifico e di lanciare un razzo ne facciamo tranquillamente quindi costruiamo il nostro primo razzo mettendo come prima cosa la capsula poi io vado avanti un po' veloce perché ho fatto mille volte se avete dubbi scrivete nei commenti nel video e io vi spiego o faccio un altro video in cui spiego più in dettaglio quindi qua ci sono le capsule qua ci sono i motori e qua ci sono i serbatori però adesso nel solo motori ha stato solido quindi non hanno bisogno dell'assorbatorio su tutti in uno e sotto gli utility mettiamo un paracadute poi siccome ci hanno chiesto un esperimento scientifico sotto scienza mettiamo un esperimento scientifico con x mettiamo la simmetria quindi adesso me le metterà uno dall'altro uno dall'altro beh più o meno con la nostra bella bandiera tra i des che ovviamente io sono tra i des se per caso sapete di qualche modo che aggiunge i veicoli del film nei libri di quello che è scrivetelo nei commenti gli stage sono già a posto quindi nel primo stage parte questo razzo qua nel secondo stage parte il paracadute giusto spazio spazio per attivare gli stage vediamo chi mettiamo al comando jebedia jebedia perfetto dentro qua c'è un omino che si chiama jebedia e fa il pilota gli omini possono avere diverse professioni che ne aiutano a svolgere diversi compiti il pilota pilota l'ingegnere ingegna e lo scienziato scienza l'ingegnere aggiusta le cose e lo scienziato resetta gli esperimenti mentre il pilota ci dà delle opzioni in più per pilotare in maniera più o meno automatica ok quindi facciamo subito le due ovviamente non è così ovvio ma tutto quello che vedete qua di base di lancio è aggiornabile pregradabile solo che adesso siamo senza soldi siamo pezzenti e quindi fa schifo quindi facciamo Observe Mystery Goo per il primo esperimento e ce lo teniamo poi facciamo la perota dell'equipaggio e ce lo teniamo pingiamo T per attivare la stabilità e poi spazio e lui è contentissimo guardate che bello qua facciamo il secondo esperimento perché siamo in un altro posto e quindi possiamo fare altri punti scienza e ce lo teniamo e nel frattempo abbiamo fatto i contatti e anche una milestone quindi ci daranno soldi e reputazione e punti scienza ok continuiamo a salire vedete com'è contento con M apriamo la mappa e vediamo che siamo nel punto più alto e stiamo iniziando a scendere quindi possiamo aprire il peracadute con spazio di nuovo noterete che anche se sono andato dritto su non attero esattamente a dove sono partito questo perché nel frattempo il pianeta sotto si è spostato un pochino come nella realtà poi ho messo le texture in alta definizione ma non mi sembrano in alta definizione queste cioè qualquadro anche non cosa mi sembrano molto in bassa definizione molto pixelose ma magari appena l'aggiorniamo si vede meglio ok fantastico facciamo recover person e ci dirà cosa abbiamo ottenuto abbiamo ottenuto 16.5 punti scienza soldi dalle parti recuperate e niente reputazione però la adesso ci prendiamo altri contratti che è sfuggire dall'atmosfera che ci dà 32.000 e orbitare carbon che ci dà 48.000 e dal ricerca e sviluppo ci sblocchiamo un po' di pezzi quindi esperimenti che sono sempre utili e pezzi di razzo che sono indispensabili abbiamo ancora 16 punti scienza quindi possiamo prendere ancora uno degli altri esperimenti questo non ce lo possiamo prendere prendere ancora altri esperimenti che schifo non ci fa esperimenti uguale punti scienza punti scienza uguale e sblocchiamo altri pezzi quindi questo era l'arazzo base adesso possiamo mettere il fuel tank sotto mi scusino quelli che mi seguono da mille anni che sanno già tutte queste cose ma io vi spiego sono noioso ma vi spiego quindi abbiamo il primo stadio che ha mille metri al secondo di delta V cos'è la delta V? quanto possiamo andare lontani quanta potenza abbiamo? ecco non so come spiegarlo forse un po' più semplicemente sotto per mettere un altro stadio dobbiamo mettere un decaplero tipo questo sta mischiando tutti gli stadi ok questo è giusto che vada qua questo deve andare qua quindi questo è 700 metri al secondo questo è 1000 e arriviamo a 1700 per sfuggire all'atmosfera ce ne vogliono 2300 più o meno quindi dobbiamo fare un pochino meglio di questo mettiamo un decaplero anche qua così la capsula ritorna da sola con gli esperimenti che adesso ne mettiamo ancora un po' dentro tanto questi sono piccolini sono un termometro e un misuratore di pressione e abbiamo anche delle antenne che ci permettono di mandare indietro gli esperimenti non male forse abbiamo anche delle batterie no non abbiamo delle batterie quindi mandare indietro gli esperimenti costa elettricità e quando finisce l'elettricità non possiamo più comandare neanche la navicella quindi non è piacevole non è piacevole non deve succedere come si fa ad avere più energia? aumentare le batterie o mettiamo dei generatori di energia come i pannelli solari i generatori radio aerotg radioisotopi nucleo generato una cosa del genere quelle di The Martian aerodinamica abbiamo qualcosina abbiamo queste finne qua che possiamo attaccare così e poi metterei vediamo se può avere senso fare così questi non li sto mettendo che si possono staccare sono tutt'uno con questo pezzo qua però sono della stessa potenza quindi non dovrebbero dare grossi problemi e questa 1600 2600 ce la dovremmo fare ad andare in orbita e lo chiamiamo è sempre 3 nessuno è sempre lui pilota è sempre GVD vai salviamo lanciamo è troppo pesante perché è troppo pesante? perché il launchpad va potenziato adesso lo potenziamo quindi clicchiamo qua di destro e facciamo upgrade perfetto poi da qua possiamo lanciare direttamente a razzo le texture sono meglio devono essere proprio del livello base che da quindi pingiamo di nuovo T per avere il SAS che è la stabilità assistita dal computer e Z per alzare il throttle a manetta mettiamo il gas perché questi invece sono irregolabili come potenza questi motori qua questi nuovano solo al massimo ma questi si e spazio lui è sempre felice ok spegniamo un attimo il motore perché voglio anche circolarizzare un pochino l'orbita che vedete attualmente è questa quindi stiamo salendo spinti non ho potenziato abbastanza la stazione di tracciamento per vedere a che altezza arriviamo per direi 50.000 ok secondo me adesso arriviamo sopra 70.000 che è la fascia di confine in questo pianeta qua non nella terra ma qua in questo pianeta la fascia di confine è con l'atmosfera vedete che qua c'è l'indicatore nell'atmosfera quando va a zero non abbiamo più resistenza quindi non ne cade più l'orbita non c'è più attrito ecco non è che non ne cade più l'orbita ma più o meno il senso è quello infatti è cambiata anche la musica siamo nello spazio allora voglio vedere di trasmettere queste report qua ce l'abbiamo fatta quanti contratti abbiamo fatto contratti milestone come se non ci fossero domani in realtà voglio vedere quante energie abbiamo quasi finita visto solo con un esperimento l'abbiamo quasi finita però è buono perché siamo in un volo suborbitale come quello fatto dal blue origin con sopra il capitano Kirk quindi questi poveri atreides piano piano stanno uscendo dal loro pianeta andranno a soddisfare l'imperatore questa è la missione se avete visto anche voi dune al cinema o se avete visto la versione hanno fatto tipo una miniserie che è quella che avevo visto io e un film prima e poi c'è la serie di libri ovviamente se avete visto letto uno di questi fatemelo sapere nei commenti abbiamo perso un'antenna vabbè non ci facciamo dei problemi ne abbiamo un'altra nel caso servisse non mi fa aprire il peracadute potrebbe essere un problema questo ok un po' di scudo termico ce l'ha già la capsula di suo ok abbiamo fatto un'altra milestone e adesso col peracadute aperto e in ruota di discesa siamo tranquilli col peracadute commesso abbiamo già visto che basta non farlo precipitare adesso si aprirà tutto insieme eccolo è bello che l'ha fatto esattamente quando lo dicevo e adesso planiamo dolcemente nell'oceano che sembra poco profondo vedo il spoff il mio consiglio quando attivate l'oceano è fare subito recover vessel perché magari si giro e si spezzano pezzi si rompono pezzi abbiamo fatto 56 33 punto 6 punti scienza quindi in totale sono 56 e abbiamo 231 mila di soldi che non è niente male la reputazione è sempre bassa perché non siamo ancora usciti dal pianeta allora adesso magari proviamo a vedere di sbloccare ancora qualcosa ma le useremo vedete che costano tutti troppi punti scienza le useremo nel prossimo video perché per questo video ho già messo troppa carina al fuoco spero che vi sia piaciuto spero che vi piaccia l'idea di andare a visitare duna prima o poi che non so se riesco a farlo vedere qua dalla si forse riesco a farlo vedere da qua duna duna di dune eccolo qua a me piacerebbe andare su questo pianeta qua a vedere i vermoni della sabbia vermoni che non ci sono non c'è problema ah anche il fatto che siamo precipitati dell'oceano ci ha dato soldi felicità gioia quindi tendendamente qual è l'obiettivo a lungo termine ciao moon appunto la colonizzazione l'estrazione di risorse adesso non ci sarà la spezza perché nel gioco non esiste ma comunque possiamo estrare risorse in questo gioco l'estrazione di risorse da duna è l'obiettivo finale per questo video è tutto grazie per avermi seguito e alla prossima grazie